8 comuni pugliesi tornano al voto per eleggere i nuovi sindaci nel turno di ballottaggio in programma il 23 e 24 giugno. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si tratta delle 8 città nelle quali in occasione del primo turno elettorale dell'8 e 9 giugno nessuno dei candidati alla carica di sindaco è riuscito a superare la soglia del 50% dei vuti complessivi. Si torna alle urne a Bari per eleggere il successore di Antonio De Caro. La sfida sarà tra il candidato del PD Vito Leccese che al primo turno ha sfiorato la vittoria con il 48% dei consensi e Fabio Romito per il centrodestra che due settimane fa ha raggiunto il 29%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Michele Laforgia escluso dal ballottaggio ha annunciato pieno sostegno a Leccese. In provincia di Bari vanno al voto altri due comuni. A Putignano sfida nell'area di centrosinistra tra la sindaca uscente Luciana Laera e l'ex presidente del consiglio comunale Michele Vinella. A Santeramo in Colle ci riprova Vincenzo Casone sindaco della città sino al commissariamento di gennaio alla guida di una coalizione a trazione popolari e PD in vantaggio al primo turno di sette punti su Nunzio Zeverino Di Gregorio, candidato di Forza Italia. Fari puntati anche su Lecce dove Adriana Polibortone per il centrodestra ha mancato la vittoria al primo turno per poche decine di voti fermandosi al 49,95% dei consensi. La sfida sarà con il sindaco uscente di centrosinistra Carlo Salvemini. Unico altro comune Leccese al ballottaggio è Copertino dove gli elettori dovranno scegliere tra Vincenzo De Giorgi del centrodestra e Antonio Leo per il centrosinistra. Nel Foggiano si attende l'elezione dei nuovi sindaci in tre comuni. A Manfredonia Domenico Lamarca alla guida di una coalizione di centrosinistra ha concluso il primo turno con oltre 20 punti di vantaggio sul candidato del centrodestra Ugo Galli. Conservatori esclusi dal ballottaggio a San Giovanni Rotondo dove sarà sfida tra Filippo Barbano candidato del Movimento 5 Stelle e il sindaco uscente Michele Crisetti per una coalizione a guida PD al primo turno separati da appena un centinaio di voti. Alle urne anche gli elettori di San Severo. La scelta sarà tra Angelo Masucci del centrosinistra e Lidia Colangelo candidata di Fratelli d'Italia.